In pratica faccio il factotum. Lei che lavoro fa nell'azienda? In pratica faccio il factotum. Crea la pubblicità? No, a quella pensa una collega molto brava che è una creativa. Bisogna fare un sacco di ricerche. Lei fa le ricerche? No, per quello ce l'ha detto al marketing. Deve trovare nuovi clienti? No, quello non rientra nel mio lavoro. Fa parte della dirigenza? No, ma ci sarò tra poco. Mi scusi, allora che cosa fa nell'azienda per cui lavora? Sopporto l'ironia dei colleghi che fanno un lavoro preciso. E questo le basta? Sì, perché vede, io l'azienda la amo veramente e quando si ama così. Insieme all'amato si ama tutto quello che l'amato comprende.